Ciao raga bentornati sul mio canale youtube come vedete una location questa esotica infatti non sono a casa mia ma ho avuto un contrattempo oggi pomeriggio ho dovuto fare una corsa al pronto soccorso non vi preoccupate siamo tutti bene quindi mi trovo dalla tana di John fondatore infatti vedete che l'account recita 8 milioni di crediti magari fossero i miei e dopo vi faccio vedere pure la squadra comunque sono usciti gli swap terzo gruppone di swap un po' a sorpresa onestamente perché io ricordo vividamente che a inizio anno si era detto che ne erano due e gruppo 3 che diciamo finalmente smuove un po' le acque perché si sono ricordati che a fine gioco magari è bene essere un po' larghi di manica e qualcosa di decente è uscito andiamo subito a vedere che con un token quindi un solo giocatore swap è possibile riscattare un pacchetto 25 81 più che onestamente di questi tempi insomma non è che mi fa così tanta gola perché parliamo di un pacchettino che al massimo rilascia qualche fodder per l'SBC icona che comunque fino ad ora non sono uscite e che seppure qualora dovessero uscire con tutti i tots che insomma ci ritroviamo tra le mani non ne vale minimamente la pena stesso discorso abbastanza analogo credo che sia da fare per questo 25 83 più soprattutto in relazione con quelli che sono i premi che andiamo a vedere dopo stessa cosa per questo 20 84 l'unico che proprio mi solletica potrebbe essere questo da abbinare però con altri giocatori più avanti perché lo andrei ad aprire con i tots ultimate quindi se magari si vuole provare no sono a sculata epica con i tots ultimate provare a stipare questo pacchetto all'interno del club altrimenti secondo me questi tre pacchetti che richiedono comunque 1 2 3 token non ne vale la pena perché vi vanno a togliere materiale ricordo che i token sono 18 vi vanno a togliere materiale secondo me per qualcosa di più succulento abbiamo poi a 5 token questo pacchetto momenti icona anche questo secondo me in relazione a quello che c'è dopo non è che mi attira più di tanto perché insomma è un giocatore icona moment moments che può essere sì randomico è proprio quello secondo me mi puzza no perché può uscirvi il portiere classico il bobby mur di turno quindi voglio dire eviterei il pacchetto momenti icona così così come sto basti a schweinsteiger per quanto gli possa voler bene c'è una bella carta un bello uaiono però è un metro e 83 è alto alto è un 3 3 quindi tronco molesto in mezzo al campo in più ha 79 di agilità 86 di forza quindi già questo vi fa capire che con l'l2 insomma questo deve spostare una gru non c'ha sta gran velocità in un periodo di tots dove un banalissimo iorente un 3 3 anche lui ma costa 300k e non vi costa la salute onestamente sto schweinsteiger lo terrei lo terrei abbastanza qui pacchetto momenti icona 92 più già iniziamo un attimino a girare la situazione perché qua abbiamo un attaccante un centrocampista da 92 in più moments garantito quindi già questo potrebbe essere secondo me molto più utile alla causa perché insomma arrivate a questo punto tanto vale tentare la sculata piuttosto che prendere schweinsteiger a giugno luglio perché insomma parliamo di carte queste che riscatteremo abbastanza avanti ora sono usciti ma prima che arriviamo a tutti i token insomma ce ne vuole kristo stoichkov prime moments pure lui non me ne voglia con tutto il bene che insomma gli posso volere un metro e 78 è normale normale c'ha 4 di skill e 3 di piede debole diciamo una sorta di kuskas che insomma è uno spoiler anche per dopo per carità veloce veloce finalizzazione potenza tiro ok però a 3 di debole quindi è monopiede passaggi neanche così eccelsi agilità ci siamo però 85 di forza e vi dico è un giocatore che comunque quasi 1.80 c'ha quel classico body type un po' panzuto alla muriel quindi non è neanche così rapido palla al piede quindi insomma mi starei un attimino attento a questo stoichkov sempre in relazione a quello che è il periodo di toz eccetera eccetera dove banalmente un qualsiasi toz bagato è meglio di sto coso Icona Prime ha scelta 92 più pure questo onestamente non ci andrei a perdere troppo la testa perché è un pick come valutazione siamo anche abbastanza buoni però insomma ci sono pick più avanti più interessanti questo comunque viene a costare 9 quindi praticamente la metà del vostro budget di token e non ne vale la pena stesso discorso questo budget qui di 10 token sul pacchetto pick sempre di giocatori moments se il pad mi da una mano e non me ne va dove io non voglio ok perfetto quindi questo qua è un giocatore a scelta quindi un pick sulle moments ma non ruolo specifico quindi vi può uscire tanto il van der star prime moments il rai card moments quindi vi rischio che un giocatore che vi rimane nelle gengive è molto alto quindi occhio a questo che ne costa 10 quindi già vi siete giocati più della metà del vostro budget quindi eviterei così come eviterei george best che non è neanche il moments ma è il prime per carità è un buon esterno vi dà la possibilità magari del fatto di essere Icona di avere dei link buoni però se pensate a quelli che sono i terzini che girano ultimamente sono i soliti cansello eccetera eccetera sono facilmente linkabili con un qualsiasi esterno tots banalmente un sala eccetera eccetera che comunque secondo me il rapporto di sforzo vi viene meglio rispetto a questo best che ripeto è comunque un buon giocatore 1 e 75 è normale normale un 4 4 però insomma lascia un po' il tempo che trova sono tutte carte queste buone ma che in relazione al periodo in cui ci troviamo perdono un po' di appeal secondo me invece a 12 token iniziano a esserci le cose un po' più interessanti perché abbiamo un pick in questo caso di Icona Moments centrocampiste 92 più e allora qui sì che le cose mi iniziano a solleticare il palato perché potrebbero uscire dei giocatori veramente interessanti penso ad un Viera Moments penso a un Gullit insomma carte ce ne sono adesso non mi viene in mente ma ci sta sicuramente anche qualche esterno Moments molto valido insomma tutti i giocatori che sono molto meglio rispetto a quello che abbiamo visto rispetto ad ora e che vi possono svoltare magari gli ultimi mesi e vi potete divertire con dei giocatori che magari non potreste mai arrivare a comprare no perché parliamo di carte molto molto elevate a livello di prezzo stesso discorso di best stoicico eccetera eccetera secondo me vale per questo Puskas Prime manco il Moments è un 4-3 quindi per carità magari finalizzerà anche bene sarà anche agile però è monopiede io ricordo vividamente che a inizio anno questo lo provò Caccia e disse che era una roba abominevole e in più questo giocatore qua all'inizio si pensava potesse essere una sorta di Eusebio non lo è stato e quest'anno Eusebio ha fatto anche una brutta fine quindi insomma Puskas per 13 token sta bene dove sta a 15 token secondo me ci avviciniamo nella zona calda perché questo pick pick quindi ve ne escono tre che voi potete scegliere giocatore Moments attaccante e vi dico tanta roba perché metti caso che vi esce un bel R9 un bel Pelé insomma giocatori un po' più gustosi e allora sì che ne può essere valso lo sforzo lo so ci sono le squad battles da fare bla 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 capisco però comunque è anche un modo per tenersi impegnati in questo periodo no? fondamentalmente ne vale molto lui di più la pena rispetto a un Puskas no? che è un Prime ed è un po' così ambiguo per modo di dire così come è molto buono anche ha qui sempre 15 token Storio Ferdinand Moments che io ho avuto modo di provare veramente molto molto forte si attacca bene all'uomo full automatico esce bene preciso nei con degli interventi beh il giocatorino vi giuro veramente però sempre ricollegandoci al discorso del siamo in un periodo in cui vi sparano carte tots buggate con defo fanà eccetera eccetera non so sprecare 15 token per un giocatore che mettete in difesa e magari non vi solletica più di tanto il palato non lo so qui giocatore a scelta quindi sempre pick icona 93 più moments e anche qua qua è vero che ci buttiamo nel calderone tanta tanta roba perché sono tutti ruoli però 93 più a memoria insomma non è che ce ne sono poi tante di icone insomma soprattutto moment quindi questo qua anche potrebbe essere interessante anche se secondo me lo piazzo dietro il 92 più degli attaccanti e dietro il 92 più dei centrocampisti Patrick Viera a 17 token bel giocatore ovviamente non ve lo sto neanche a dire ma in un'epoca in cui esce De Jong Toz e gli mangia in testa oppure magari uscirà Renato Toz insomma giocatori di questo tipo io lo lascerei là Patrizio Viera non ne vale la pena vi ripeto sì fenomeno però siamo a luglio amici miei quindi insomma non mi sembra il caso quindi se io vi devo dare la mia personale top di quello che andrei a fare mi andrei a giocare o un giocatore centrocampista moment quindi con 12 token e poi magari ci vado ad abbinare non lo so un pacchetto ulteriore icona moment con 5 token e poi mi prendo l'81 più è secondo me una delle cose più interessanti da fare o altrimenti mi vado a giocare direttamente tra virgolette lo linna 15 token sull'attaccante e poi magari vado a fillare con quegli ultimi 3 token che mi sono rimasti mi sparo magari il 20 80 da giocatori 84 più che mi posso riciclare con il Toz Ultimate per cercare di trovare qualcuno di interessante questo è quello che io farei devo dire che non sono stati così deludenti come l'ultima volta sarebbe stato il colmo e penso che nella community si sarebbe veramente scatenato il putiferio tra l'altro io penso che su questo account sicuramente verranno grindati questi swap perché ne abbiamo bisogno no oddio che fine ha fatto la squadra questo è un plot twist incredibile guardate un attimo eccola qua buona fortuna perché l'umiltà è di casa qua abbiamo bisogno abbiamo bisogno di giocatori swap da inserire in questo account quindi raga per questo video è tutto spero insomma che sti swap abbiano un po' soddisfatto la vostra voglia di tryhardare anche a fine anno fatemi sapere che ne pensate nei commenti vi ricordo come al solito un bel like io ringrazio il mio il mio padrone di casa vieni mostrati juon appari eccolo e nulla raga quindi vi ricordo che tra l'altro con john ci vediamo ogni mercoledì e ogni venerdì il mercoledì parliamo di compravendita sulla piattaforma viola e il venerdì facciamo un po' di coaching goliardico al buon juon con questo account stellare e quindi nada vi ricordo appunto in descrizioni le info per le live giornali sulla piattaforma viola un saluto da riberoschi un saluto pure da juon stateci bene ragazzi a ciao ciao